C'è chi è entrato con i libri di scuola, c'è chi ha preso quattro ore di permesso e chi ha scelto di sacrificare un giorno di ferie. Tutto questo perché oggi non c'è una partita, c'è la partita. Un buon pomeriggio da Cesena, Roger Stadium, Dino Manuzzi, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari sulla racchetta del Cesena. C'è il primo match point della stagione. Tutto pronto sta per cominciare. Cesena Matelica si comincia. Primo pallone per la squadra di Beppe Angelini. Ricciardo. Ricciardo cerca il cross per Munari. La palla troppo lunga. Attenzione perché è a vuoto Riccio. Allora Munari entra in area. Se ne va lui. Munari, il cross basso, troppo corto per Fortunato, anticipato da De Santis. Poi Alessandro dentro l'area. C'è un tiro cross, anzi un rimpallo che premia la difesa del Matelica. L'ultimo tocco è di Alessandro che aveva chiesto anche il calcio d'angolo. Ciofi, Munari, sulla posizione di Noce. Dentro al campo Munari servito dal tocco di Bugaro. Ancora il tocco qui. Attenzione, calcio di rigore. Ineccepibile direi. Calcio di rigore per il Cesena. Laccio ai danni di Ricciardo che esulta direi di Benedetti o di De Santis. Poi andremo a rivedere il replay. 20 sul cronometro. Calcio di rigore per il Cesena. Proteste tutt'altro che convinte. Attenzione, fuori gioco. Fuori gioco. Alzato la bandierina all'arbitro. Fuori gioco. Probabilmente sul cross di Ricciardo. Viscomi lo fa girare. Il numero 7, Marchigiano. Poi il cross. Basso Melandri. La palla resta lì. Melandri! Che brivido! Munari. Lascia sul posto Riccio. Sfonda Munari. Lato corto del rigore. Il cross. L'uscita. Poi De Feudis. In due tempi a Vella. Non c'è fallo. La palla è per il portiere del Matelica. Sbaglia completamente Visconti. Regalo per Valeri. Posizione ovviamente regolare. Valeri cerca il cross. Barbido. Fortunato! La girata di Jacopo Fortunato. La parata di Avella. Tiene in campo Alessandro. Uno contro uno. Il cross. Dentro l'area. Poi Fortunato. Tamponamento con Munari. La palla esce rimessa dal fondo per il portiere Avella. Calcio di punizione per il Cesena. Fischi a Costanza. Linea alta del Matelica. Va Alessandro. Sul secondo pallo. Non c'è poi Ciofi. Lo zicco. Lo scambio con il ristabilito Melandri. Ancora Melandri. Ai 25. Melandri carica il destro. Agliardi. Sontuosa parata di Federico Agliardi. Minuto 33. Altro squillo. Ciofi. Forse anche fallo di mano. Lascia possibire l'arbitro. Florian. Florian. Il diagonale. Altro brivido per il Cesena. Grande diagonale di Florian. Alessandro. Rischia di incartarsi. Il tocco di Angelilli. Il cross. Ricciardo regolare. Ricciardo. Ricciardo. Sotto la traversa. Sotto la curva. Vantaggio Cesena. Prova a mettere il turbo Alessandro. Lascia sul posto. Il cross. Secondo palo. Munari. 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 Poi il tocco fortunato. E qui rischia l'autorete. Qui il tocco e purtroppo l'azione si spegne. Finisce qui 1-0 dopo 46 minuti di gioco. Allora del Stadium Dino Manuzzi comanda il Cesena. Decide Gianni Ricciardo. Se ne va il 2000 ex Torino. Uno con il turno con Riccio. Cerca il cross. E' anche interessante. Ricciardo la girata. La parata di Avella. Primo squillo e primo brivido. Firmato. Tanto per cambiare Gianni Ricciardo. Poi Agliardi. Attenzione. Sbaglia completamente. Sbaglia completamente Agliardi. Porta vuota. Florian. 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 Porta vuota. Florian. Pareggio Matelica. Clamoroso errore di Federico Agliardi. Che regala il gol del pareggio a Florian. 1-1. Pazzesco. Ancora Noce. Buona l'azione del difensore catanese. Il rilancio per Ricciardo. Cresce sul posto Benedetti. Gianmonito. Gianmonito e Rosso. Secondo giallo. Rosso inevitabile. Secondo giallo. Tac. Rosso. Matelica in 10. Palla dentro l'area di rigore. Biodini di testa. Per Viscomi. 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 Proprio lui. Secondo polo. La mette dentro. E la dedica. Doverosa. Obbligata. Obbligatoria. Per Federico Agliardi. Questo è il Cesena signori. Questo è il 2-1. Se ne va Valeri. Per Ricciardo. Dentro l'area. Lairone. Ricciardo. Fino in fondo. Ricciardo. Il crossbasso. Tonelli. Tortori. Dalla parte opposta. Liberissimo Campagna. Se ne va Tonelli. Cerca Tortori. Di là libero Campagna. Tortori. Per Campagna. Campagna. Dentro l'area. Campagna per il match point. Lo sbaglia completamente Campagna. Bittaglie. Bittaglie. Al limite. Bittaglie. Il dribbling. Margherita. Quasi al limite. Margherita. Il destro. La palla esce. Non di molto. 1-2-3. Gioco. Partita. Incontro. E più 10. Il Cesena scappa ufficialmente. In classifica. Cesena 2. Matelica 1. Apoteosi al Manuzzi. Misbo.